Ciao a tutti e bentornati sul canale. Come avete visto dal video precedente queste sete sono state in vacanza nella mia amata Puglia in Salento, precisamente a Castro. Se non avete ancora visto quel video ve lo lascio qui su delle schede informative. Sapendo di dover essere in vacanza in questo posto meraviglioso, ne abbiamo approfittato per girare qualche video in 4k. Incastonata nello spettacolare scenario roccioso della grotta di Alessia di Lusa nasce la piscina di acqua di mare a ricambio continuo che prende il nome dalla vicina grotta. Grazie per la visione! Il mio video termina qui. Spero vi sia piaciuto. Mi raccomando lasciatemi tanti pollici in su. Vi lascio qui accanto il video precedente e per non perdere nessun video iscrivetevi al canale e seguitemi sui social. Vi aspetto! Ciao a tutti e bentornati sul canale. Oggi vi porto con me in Fiera del Levante.